Ah, eccoti qua! Adesso vediamo... Che cosa ha detto poi Danny? Ah, sì, è Ophelia, la dittatrice di internet che ha messo una taglia sulla tua testa. Ci dobbiamo infiltrare nell'internet e prenderlo Ophelia da dietro. Non ti preoccupare, ho un piano. Vai giù per quel tubo delle fogne e poi ti spiegherò tutto. Eh, giustamente, si va nelle fogne. Ah, ma... Ah... Giù per il tubo. Però fatemi controllare una cosa. Perché io ho fatto tre capitoli e se non mi sbaglio sono cinque. Cinque capitoli. Ok. Ophelia... FAN! Oddio mio, questo complica le cose. Questi sono i più duri degli hardcore gamers. Decadi di violenza nei videogiochi hanno corrotto il loro cervello e adesso loro riescono a capire soltanto la violenza. Nessuno riesce a capire cosa li ha mossi a venire qua nelle fogne. Credo che siccome in molti giochi violenti ci sono le fogne, allora molto probabilmente si sentono a casa. Comunque... Ah, questo sistema delle fogne connette direttamente ad una rotaia che porta all'internet. Tra l'altro, come ho sempre detto, le fogne è uno dei miei posti per compiti nei videozotti da Crash Bandicoot 2. Pesto di merda! Perché io gli volevo... Gli volevo fare la guaglio. Eeeh... Quando un uomo col fucile incontra un uomo con la spada, se l'uomo con la spada non è tanto veloce, fa una brutta fine. Sembra molto... Sembra tanto che molti si siano immersi anche nel lato cosplay. Mori! Non è vero. Forse adesso. Ah, hanno un minimo di corazza. Pappami, prendo calzi... Uh, il cabinato di My Friend, Pedro. Mori! Arrivederci. Mori. Ha stato bello. Oh. Ha schifosi. Spacchiamo tutto perché io sono stronzo e non uso i calzi. Aspetta un attimo. No, io non sono un noob e non ho bisogno di diventare più forte alla miseria. Vieni qua, amico. Sei tu lo scarso. Ah, ah. Astardo. Almeno due... No. E però... Mi dà fastidio vedere quello là per su. Quindi... Andiamo in zoom. Presse il button! Io devo ancora capire perché continuo a schiazzare i cazzo alla puttana quanti cazzo... Soppa la madonna. Eh, ma non avevo munizioni. Qua ce la faccio abbastanza bene con questo, però. Ah, ok. Ma non avevo visto che c'era questo. Pezzini schifo. Destrums. Destrums due. La padella. Voglio la... La spada. Perché non mi fanno calzare la spada? È mattona. Sto cazzo è mattona. Venite, ho aperto le celle. Che tu. Fezzo deșchi. Inmulu. No. Merdaca. Cazzo Scarica Mi piacerebbe che io crepavo la den sotto Dentro Mamma mia Obiettivo Che dovevo averlo fatto Questo doveva essere il primo obiettivo Sì ti prego fammelo fare Mamma mia che godimento No Adios Che devo che continuo Ah no Con la pistola Bastardo Ah perché ho sparato la leva No La villa E come faccio a prendermi la vita io Ah lo so io com'è Allora Quando sono carogniti Che cazzo i bullet doggio qua che non sparano Cioè sparano però Buf Io giocavo il video gioca una volta E l'ha chiamato Toffee Chewer Bisognava combinare Dei tasselli di toffee Dello stesso colore E manzarle Era molto divertente Ti manderò un invito Ok 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 Buon D Pezzo D No però va bene Fammi andare qua Non c'è un cazzo Minchia non so più le munizioni Ma vaffanculo Non ho più le munizioni del pompa Eccolo Ne stavo proprio parlando adesso Ma madonna Ehm Mo Eh cazzo però quello l'azzo con le munizioni Oh no Oh ma Ah no Porca miseria Perfetto E vaffanculo Potevo rimanere là Eh non sei morto per il lag Bello eh No no Aspetta che c'è le munizioni Pala madonna Ma che botta che mi ha tirato questo stronzo Ma io necessito fortemente L'ho presa Sì Eh vabbè però No no Di qua Oh Mo ve sfanculo un po' Le pompa Ok Amici miei Sta bene Mo ve vengo a prendere Oh eh non salta Con calma Eh bannaccio Eh bannaccio Già capito Derebbe aspettare Sto coso C'è che vanno più lenti Degli altri Outfidersen Oh la torretta Ma mi prende Mamma mia Che di sfondo Ok No Level complete Level complete Level complete Questa era una via Delle risorse Pirata Dei software Una volta Soprattutto quando Si usavano ancora I dischi fisici Troppo retro Porr Ah ti sei spaventato Tu eh Veloce 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 Levati Levati Ah bastardo E sono morto Comun coglione Beh Cazzo Dovevo rompere Pure la cazzo Di torretta Ormai No Questi No Babu Emo Adpelum Ricochet Kill Ah se l'abbassato O strums E quanti Minghe Sete A tempum Mamma mia Level complete Bleed Eh qua Su cazzi Eh Adesso è un What Cazzo Veo in mano Quello là DRIFLE Ah qua Stanno Potentemente Facendo cose Con armi pesanti Eh Guarda C'è un Lancia granate A me Mi sembra tutto Danna Lancia granate Ah ok È un Lancia granate Sciorbole Se tengo Premuto LT Ah madonna La distruzione Quanto godimento Quanto condimento Se te piano pure te Ti fanno abbastanza Male Dai lo so che ne vuole Saltare fuori un altro No Wow Una Sub machine Con lancia granate Cioè Ah C'ho 5 granate Ok Perché c'ho Il coso della live In mezzo alle palle Madonna Pelo Datemi tutte le vostre munizioni Perché tanto siete morti E non vi servono più Madonna però c'ha la zittata di Dio C'è nel senso Non è che sia proprio una zittata importante Quella della granata Però con tutti i stronti Non si fa il loro porco lavoro Ha morto tutto Un po' di calma qua 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 Mamma mia quando proprio vi distruggo brothers E questa mi è piaciuta Palombella Ehi amico Doppia Le doppie chi belle Allora ci arrivo dopo Godicchio Ci arrivo dopo al cazzo Oddio che cazzo l'obiettivo è sprocato Non so fatto caso No, walk Parko, scrofo Madonna Ci sono talmente tante munizioni Che puoi andare tranquillo Tranquillo proprio Che Arrivi al tizio che devo uccidere Che l'ha finita Ma quello che dorme Uccidi mille nemici Ma no che bello Ho bisogno di Ma vaffanculo Ho bisogno di my friend Pedro Quello acquisterei anche Sono miga stronzo Lo so che tanto saltavi fuori E ne hai capito Me ciulo proprio tutte le munizioni Level complete Oh, è sti qua? In miglia sono Questi sono I protettori del servizio internet Ophelia le ha mandati perché ha saputo dell'allerta del nostro piano Ci stiamo avvicinando alla rotaia Ma vedi che cagamento Dei goioni Che non si può fare una roba tranquilla Fortuna perché se no Porco schifo Oluf Ah, quello sta morto Ah, quello sta morto Allora che bella è la musica Quello là proprio con la granata Quel cacchio che lo prendevo L'ho fatto per la scena È però la padella Vai veloce No, ho capito perché abbiano messo qualcosa L'arrile in base Però vabbè Mi va bene stesso Un livello complato È complato Bananas Bananas Fogna Aia Eh, ci si mette un po' ad abbatterli con sto coso È meglio cambiare l'arma, va Bluff Anche perché è tipo È l'arma che hanno loro Se papà furbo Sparare Oh ma Non ti faccio vedere io però Ah, penso del merda Ah, schifoso Madonna che mi ammazzavo Ma che te pio pure a te Perché non mi mirava Bluff Hai sentito il bluff Eh, se senti il bluff è troppo tardi Eh, che dolore Madonna come mi sono salvazio Ma proprio malissimo mi sono salvato Bastardo Come dead Non è mai vero nella vita Magari vado sotto Penso del merda Madonna Madonna Prendevo di farla franca Invece no Porco Umma Però Eh, però Cosa lì Sei stronzo Villo Madonna che mi ammazzava Godicchio 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 Mamma mia che ti ammazzavo col calzio Oh, guarda che si rivede Eh, però son pieno Ma ho sbagliato I am imbecito Alla torretto E indegredevi, eh Che ce la facevo Alla torretto Ma vaffanculo Mamma mia ti finisco livello quasi moonwalking Non sto a finire munizioni qua Ridendo e scurezzandola Eh E non lo so io Mamma mia ragazzi Questi tunnel sono più lunghi Di quanto pensassi La Rotaia deve essere Qua vicino Da qualche parte E quindi Ah, ok Che stavo già dicendo Cosa sta succedendo No Emo Emo Ok Non capisco Ah, ok Diciamo che era un attimino Più di facile Comprendonio Ok Si va giù di qua Ragazzi Cosa farsi Cosa farsi Ah, ho capito la combinazione giusta Eh, fatti Astardo Panculizzatore Oh, però Sto a sentire Quello là Quello là Spero di averlo ucciso La perfezione Ah Qua mi ha salvato la vita Roland R-R-R-Land Mando Ah, ma mia La padella Più veloce Del mondo Emo Madonna Mi sono caghetto Ah, ok Per andare sotto Spero di averlo ucciso Amma mia Amma mia The genius E la Pupu Pi 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 Puu A bastardo 針 ... ... bellissimo fantasticissimo mori war e mo? ah no devo andare sotto di qua livello completato qua c'è molta puzza qua sotto sembra un mix di urina, calzini sporchi e pizza e peperoni buono io non so perché i cazzo di americani ci saranno di su con sta figa di pizza e peperoni no volevo flippare la mamma quello vuoto no piglio quest, non ho preso niente ci ci tutti? si va la vita mi porta giusto un'attacca fluff in bocca guarda 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 se dovrebbe essere più bello da vedere qua il fatto apposto però sti cazzi non so come io abbia fatto fare quello che ho fatto ragazzo del dark souliste ragazzo del dark souliste guarda adesso devo fare sti cazzi dì ma da sti cazzi vi trovo Forse è un coso Una nuova tipologia di torretta Ah ok Non ho capito bene se era questa la zona Ma io ci sono... Dai salta fuori lo so che salterai fuori Non è vero Guarda mine Se ci sono delle mine Allora stiamo andando giusto Nella direzione della ferrovia Eh track Ferrovia Questa è una rima che va bene in inglese Porco porco Quante cazzo di mine che mi minano Eh non è un problema questo Ah beh basta che gli sparo Ah beh una granata Credevo peggio Insomma Tutto sommato non è niente che ha Certo quando se ne mettono 800 miliardi Troppa gente Quanto veloce sto coso però Ho fatto un maciello Ho finito le bombe E' ooooh 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 e che cacchio mi sono perso tutti i baci della vita però sti cacchi intanto erano modificatori di roba che poi non farò mai caccio se c'avevo la granata qua però è morto ah burdelle no no non so come io sia riuscito a riuscire a vivo sto finendo le munizioni sto finendo le munizioni ah ragazzo sono così sono così stanco di fare la guardia a queste leve eh lo so ragazzi siamo rimasti qua per mesi e nessuno si è fatto venire neanche per 5 minuti di pausa stai pensando quello che sto pensando? penso anch'io andiamo fuori andiamo fuori e facciamo vedere a tutti un po' di mosse da film di karate ok ehi presto sei trovato l'entrata per il sistema delle ferrovie eh il treno passerà qua dritto dritto per andare dall'internet ah eh eh visto? a non fare il tuo lavoro mazzo se salti anche due secondi stiamo tornando nella strada per la base come si è richiesto madame eccellente lavoro soldato eh fate presto passo e chiudo dove faccio vedere io? passo e chiudo cara Ophelia che hai mai rotto le balle che hai ucciso tuo paparino poi vabbè ha ucciso tuo fratello sti cazzi magari ti stava sulle balle anche a te porca miseria eh vabbè slow motion e salta fuori l'ho visto anche te là in fondo eh va va che stronzo DOJA ma hanno tutti la UFI? no 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 fammi andare anche un po' di pompa muori 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 calza salta spara cerca di sparare eh ho visto che hai fatto la pazzina questo non può morire mi sono ammazzato da solo no no No! L'offete. Doppia. Perché mi ha bloccato lì? Ok. Un momento. Ah! È mo'. Ah, da qua. Calzo! Ammazzamento! Ho tirato la granata e mi stavo ammazzando da solo. Eh, la miseria! No! È troppo ammazzoso! Ha bisogno di vita! Ha bisogno di vita! Oh, la madonna! Io sono passato sotto! Ti passo ancora sotto? Uno! Oh! E due! Wow! Level complete! E abbiamo completato il penultimo livello! All'aster... Ah! E poi... Grazie a tutti.